Il percorso di Ida Platano come tronista si è concluso in maniera negativa, anzi deludente, perché alla fine non è riuscita a trovare un uomo che le rubasse il cuore. Tralasciando infatti il comportamento di Mario Cusitore, ingiustificatamente concitato nei modi, viene da chiedersi se Ida sia mai stata interessata agli altri corteggiatori, a cominciare da Pierpaolo Siano. «Mi è sempre piaciuto», ha sentenziato Ida durante l'ultima puntata andata in onda, quando il cavaliere partenopeo ha lasciato lo studio. Mentre il rivale di Avellino si è sentito dire «ma tu pensavi di essere la mia scelta», con un tono tutt'altro che comprensivo e amorevole. E un utente sui social le ha scritto «cosa l'hai tenuto a fare allora?» Ebbene, parliamo dunque di un percorso che fa acqua da tutte le parti e che non ha convinto gran parte della web community. Come se non bastasse, diverse indiscrezioni confermerebbero per la Platano un presunto ritorno di fiamma. In seguito alla conclusione dell'ultima edizione di Uomini e donne, si sono diffuse rapidamente delle voci riguardo un possibile ritorno di fiamma tra Ida Platano e Mario Cusitore. Molti fan della Dama Bresciana hanno persino intravisto in una storia Instagram della tronista l'anello che il corteggiatore le regalò in occasione del suo compleanno. In questo marasma di informazioni divergenti ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni a fare chiarezza. Grazie alle sue fonti, il re del gossip ha potuto confermare la realtà dei fatti. «Ma è vero che Ida e Mario si stanno sentendo e vedendo?» gli ha chiesto un utente. «No, non stanno insieme. Basta», ha risposto Pugnaloni. Al contempo ha però tenuto a sottolineare che presto uno dei due tornerà sul piccolo schermo. Qualcuno di fatto ipotizza che Maria De Filippi intenda affidare il trono al corteggiatore partenopeo. Mentre recenti indiscrezioni sostengono che Ida Platano possa diventare la quarta opinionista di Uomini e donne e in questo modo la sua presenza nel dating show vedrebbe l'ennesima evoluzione. Ma per il momento si tratta solo di ipotesi e supposizioni. Pugnaloni ha al contempo garantito che, nel giro di qualche settimana, verrà fuori la verità. Staremo dunque a vedere.